Niente da fare ancora una volta, la FAELS si deve accontentare di un punto nello sconto diretto con il Firenzola, un punto che ovviamente non serve granché alla squadra di Scartabelli, che rimane in piena zona retrocessione. Una gara che è iniziata con un FAELS comunque determinato, in realtà la prima occasione è stata per i padroni di casa, però subito il vantaggio degli ospiti, sicuramente una condizione psicologica che vede il FAELS tentare sempre di arrembare l'avversario come se fosse sempre la partita dell'ultima spiaggia, è chiaro che se passi in svantaggio l'aspetto psicologico si fa ancora più problematico. Andiamo allora a vedere questa gara, un primo tempo comunque al rallentatore, a meno fino al 28esimo minuto, quando Bencivenni sottoporta non riesce a trovare spazio per bucare Scartabelli. A proposito di psicologia, praticamente capovolgimento di fronte, contropiede, un cross di Billi che viene deviato di mano da Dini. È rigore concesso dal direttore di gara, il signor Baronti di Pistoia. Ospiti dunque in vantaggio perché Minicino non sbaglia e fa 1-0. Rabbiosa la reazione del FAELS con Bencivenni al 38esimo che impegna Scarpelli di Pugno e al 43esimo. Il FAELS riesce anche a trovare il pareggio Petri-Fadatorre per Donati che sottoporta, questa volta non sbaglia. 1-1 e le due squadre vanno nell'intervallo per un inizio di ripresa davvero pirotecnico perché al settimo minuto il FAELS, come spesso è accaduto, si fa sorprendere. La difesa viene scavalcata da un lancio lungo che mette in moto Minicino, bravo a scavalcare dalla torre in uscita con un pallonetto. Il FAELS a traballa rischia di capitolare al 17esimo quando c'è una punizione per gli ospiti. Colpo di testa di Vignoli, palo a Dallatorre battuto e altro rischio un minuto più tardi per Puccetti che solo davanti a Dallatorre fallisce. La più clamorosa delle occasioni, inutile dirsi, 19esimo sul fronte opposto, c'è una punizione di Puliti. Bencivenni sottoporta, non sbaglia, è il gol del 2-2. Il FAELS ci crede e prova a pressare al 28esimo cross di Bencivenni per Fioravanti che al volo fallisce una buonissima occasione. E proprio al 45esimo Sistine, bella coordinazione, Scarpelli è bravo a mettere in calcio d'angolo, 2-2 il risultato finale.